No, no. Grazie. E poi ci sono tutte le situazioni fuori dalla regione che esistono e non possiamo farci niente. Io penso che è una persona molto, molto imprenditoriale e prese per la gente che lavorano. Poi per le cose persone, personale, sono su cose sue e basta. Di Berlusconi? Io penso che sia un personaggio che ha diviso, ha diviso l'opinione pubblica, continua a dividerla. Io penso che sia un personaggio che ha diviso. Io penso che sia un personaggio che ha diviso.